Gli anni 70 rappresentano l'arrivo di Giovanni Paolo II nel cuore di tutti noi e rappresentano un momento in cui il nostro paese viveva un grande scontro ideologico, dove però le persone volevano partecipare. Volevano partecipare alla vita politica e non solo, e questo ci manca molto, oltre al fatto che negli anni 70 esce per la prima volta Guerre Stellari, che è un film che ha di fatto riempito le sale e tanta immaginazione di tanti giovani.